Ho questo ricordo che in realtà è un sogno, non so dirti, ma mi ritorna sempre, sono davanti alla casa dove sono cresciuta, mia mamma che mi tiene alla mano, guardiamo come i lavoratori costruiscono la casa, però insomma è impossibile perché non ero neanche nata quando è stata costruita. Poi tra l'altro ci abitava anche una famiglia prima di noi lì, ma mi sembra come l'avessi vissuto, non ci capisco più niente.